Ci rivedremo una volta al mese perché il confronto è sano ma il dialogo con il PD proprio no. Tanto PD e PDL faranno l'inciucio e la gente che è stufa prenderà i bastoni. Quando Beppe Grillo esce a bordo di un'auto sportiva dall'agriturismo 20 chilometri da Roma dove ha riunito i suoi il succo del suo intervento è già disponibile su internet. Il vertice segreto si è trasformato in una gita fuori porta. I giornalisti inutilmente depistati rimangono fuori da cancelli per tutta la durata del vertice cinque ore abbondanti. Il confronto è blindato nessuno streaming. Fuori è tutto un cercare varchi chiedere informazioni a chiunque qualcuno riesce a superare gli sbarramenti. Tre o quattro reporter si infiltrano Grillo raccontano non lancia ultimato ma i suoi. Abbiamo il listino prezzi per i nostri scherza. Si stanno dividendo gli altri non noi non mi aspetto. Totale condivisione nel movimento è legittimo che qualcuno la pensi in maniera diversa. Spiega ai parlamentari del movimento 5 stelle. Fuori i giornalisti tramite telefonino seguono quasi in presa diretta. Non siamo noi che ci stiamo dividendo sono gli altri. Sono altre sue parole anche perché dice se si verificherà l'accordo PD-PDL la gente prenderà i bastoni. Dunque calma e gesso lo stallo politico non deve logorare il movimento. Dobbiamo arrivare calmi e sereni all'elezione del presidente della repubblica che sarà molto diverso da questo. Grillo se la prende solo con i giornali. Abbiamo a che fare con gente incredibile. Fanno dossier e contro dossier di tutti i tipi contro di Messi sfoga. Parla anche di Napolitano. Riferisce dell'incontro al Quirinale. Gli ho detto di darci l'incarico e solo dopo gli faremo un nome per la sua guida. Ora il nome è il movimento nel suo insieme. L'unico richiamo curiosamente riguarda la gestione della comunicazione sui social network. Non pubblicate elementi di vita privata ma solo l'attività parlamentare. Attenti insomma le trappole. Alla fine del lungo incontro prima di risalire sui pullman parlano quasi tutti. Divisioni non esistono. al vertice mancano una ventina di parlamentari. Un caso. Curro non c'è. Chiedete a lui a sentirli. Insomma il movimento è proprio compatto. Se voi li chiamate dissidenti chiedetevelo voi chi sono. Non lo chiedete a me. Cioè ragazzi state creando una figura dei dissidenti che non ci sono. Ci sono persone che hanno delle idee e le dicono. Punto. Finisce lì. Su quelle questioni. Sulle questioni abbiamo votato. Punto. Non c'è nessuno. No. Abbiamo già votato. Lo sapete. Avete relazionato meglio di noi.